Hai chiesto di vedermi, Carrie? Perché sta dando farsi speranza a mio padre? Scusami? A salire è sceso le scale ogni 15 giorni e non vede mia madre da più di 6 mesi. Ma a proposito, ho sentito che è andata molto d'accordo con i due. Sì, è una donna molto coraggiosa. No, ma lei non sa come stanno le cose. Quelle dannate scale lo stanno uccidendo. Non sono le scale che stanno uccidendo tuo padre, Carrie. Ma no? La cosa allora? La tua mancanza di fiducia. Mancanza di fiducia? Fiducia in cosa? In te stesso, Carrie. Senta, io ho una grande fiducia in me stesso. Carrie Conner, ero castolano, 30 anni di prigione. E non si preoccupi, so come sopravvivere. A quale prezzo? Pagherò quel maledetto prezzo, glielo assicuro. Il prezzo di cosa? Già, lei è molto brava a parlare, vero? Vede, io però non capisco il suo linguaggio. Giustizia, pietà, clemenza. Io letteralmente non so il significato di queste parole. Lo so, vorrei un altro una richiesta scritta per farmi strappare via tutti i denti, così da infilarmi un pugno in bocca e non dire mai più una cazzo di parole in inglese. Capisci quello che intendo? Signorina Pierce. Stai cercando di impressionarmi? Il tempo è scaduto. Barry. Non dia farsi speranza a mio padre. Barry, ricordati che deve aiutarlo. In the name of whiskey, in the name of song.